Buongiorno, ben ritrovati, oggi è lunedì 3 ottobre 2016, questa è la rassegna stampa di Fano TV, siamo in diretta alle 7 e mezzo, ben ritrovati. Allora cominciamo dal santo di oggi, oggi il santo, o meglio la chiesa cattolica ricorda San Dionigi l'Areo Pagita, discepolo di San Paolo, il sole sorto alle 7 e 07 tramonterà alle 18 e 48, allora adesso il tempo, vediamolo subito, oggi avremo cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore nuvolosità nelle ore centrali della giornata e nelle zone dell'entroterra non si escludono piogge o brevi temporali nel corso della mattinata, intorno a mezzogiorno le 11 e mezzogiorno, comunque temperature senza variazioni di rilievo, i venti di brezza tesa dai quadranti settentrionali moderati lungo la fascia costiera. Domani, martedì 4 ottobre, eccolo qua, sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori massimi, per la giornata di mercoledì 5 ottobre, cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, le temperature sono in diminuzione, probabile peggioramento nel fine settimana, intorno a venerdì sono previste piogge anche molto abbondanti per quasi tutta la giornata. Un nuovo lutto in casa Ferri a Pesaro, Ferri stiamo parlando della famiglia di Michele, di Andrea, scusate, il benzinaio ucciso che tante volte ricordate il Papa ha chiamato la famiglia, la mamma, Michele e questa volta c'è stato un nuovo lutto perché è morto domenica Paolo, per tutti Paolino, fratello di Michele e appunto Andrea Ferri che è volato in cielo. L'ultima volta con il suo viso sorridente, scrive il Correo Adriatico, era per una foto in una giornata speciale, l'8 di maggio, quando con tutta la famiglia era stato ricevuto dal Papa Francesco che in questi anni ha telefonato alla famiglia Ferri ben 28 volte. La fotografia invece è per il basket, la Consult Invest Show, Vittoria Applausi, all'Adriatic Arena per Brescia non c'è scampo e poi sotto, sempre nella prima pagina del Corriere, ragazzina in coma etilico abbandonata in spiaggia, l'allarme a Baia Flaminia, dato dai passanti al pronto soccorso un'altra minore è finita ubriaca. La 17enne soccorsa dai medici del 118 è stata letteralmente abbandonata da amici e amiche a dare l'allarme a alcuni passanti. Al pronto soccorso si è poi presentata un'altra ragazza devastata dall'alcol. La seconda e la terza pagina del Correo Adriatico questa mattina però è su un argomento che riguarda la bicicletta, tutti ai piedi della bici, Monamour, anatomia di una passione evergreen, sempre verde. Un pesarese su tre usa quotidianamente la due ruote, la bici politana verso il traguardo dei 100 chilometri e c'è anche appunto l'altra pagina del Corriere, questa mattina ciclisti però indisciplinati, nessun pugno duro, la polizia vanno spesso contro mano e anche sui marciapiedi. Le regole insegnate ai bambini, Pesaro Forchiz cura sicurezza e percorsi da fruire anche con i genitori. La pagina di Infano invece del Corriere Adriatico. Ceriscioli, il punto nascita non chiude, i grillini straparlano per demagogia. Secca smentita del governatore resta anche ostetricia di Pesaro, si valuterà l'unità intensiva neonatale. L'annuncio procreazione assistita a muraglia e pneumologia al Santa Croce. Luca Ceriscioli, il presidente della giunta regionale, dice c'è chi lavora per i servizi ai cittadini e chi lancia parole in libertà, riferendosi alle ultime dichiarazioni del Movimento 5 Stelle di Fano. Paura in superstrada invece per un cavallo imbizzarrito. L'animale scosso con il calesse e correva contro mano è stato bloccato dalla polizia. E non so se in tantissimi, devo dire la verità, ieri l'hanno visto sul nostro sito internet il video in esclusiva che abbiamo pubblicato, come sempre grazie a tutti voi, a voi segnalatori, siete straordinari, ne abbiamo tanti. Se volete andate su occhionanotizia.it e potete vedere il video in esclusiva oppure stasera alle 20.30 ve lo faremo vedere nel nostro telegiornale. Poi il dramma dei separati, sempre dalla cronaca di Fano, dopo qualche anno di convivenza, questa è l'esperienza di una coppia fanese su tre. L'aiuto della chiesa che nella parocchia di San Cristoforo dà posti letto ai padri che finiscono soli. Analizzato il disagio della coppia con indicazioni su come affrontare soprattutto il dramma poi possiamo dire così dei figli. Nuove piste ciclabili spesso invase dalle auto, ridisegnate in modo da metterle in evidenza ma senza barriere fisiche. La pagina di Urbino, concorso pubblico nel mirino, sei candidati, nessuno è idoneo. Dopo le minacce di Crespini torna la carica Carrabs, assunzioni ad hoc. La pagina di Pesero e provincia, tartufo e birra con Barbarossa, Luca Barbarossa, il cantautore a pecchio più forte della pioggia, successo per la 34esima mostra a mercato tra cooking show, stand e anche musica. Metteremo nuove videocamere da Pesero, drogati e vandali padroni del campus nelle ore serali, il presidente della provincia Taglionini risponde all'appello dei presidi, la provincia si prende un impegno sulla sicurezza ma chiede al comune un preciso intervento a sostegno. Anche qui la pagina interna, è morto il fratello di Andrea Ferri, un'altra tragedia per la famiglia del benzinario ucciso, eccolo qua nella fotografia con Papa Francesco lo scorso 8 maggio e si è spento dopo una malattia fulminante. Il Papa lo aveva ricevuto nello scorso maggio e è stato subito avvisato domani l'addio a Soria, nella parrocchia di Soria. Legge di stabilità, i virtuosi devono poter investire, l'appello di Ricci a Matteo Renzi, mai come ora a Pesero così vicina al governo e lo si vede dall'abbraccio pubblicato sul quotidiano di questa mattina. Andiamo nella pagina di Valle del Cesano del Corriere, la sofferenza ormai è finita, Orciano di Pesero risolto il problema della voragine. L'ottimismo del sindaco Stefano Bacchiocchi, il sindaco di Orciano di Pesero, in vista dell'assemblea pubblica convocata per questa sera. Il sindaco ha detto siamo sulla dirittura d'arrivo grazie alle sinergie istituzionali. Da Senigallia invece crisi respiratorie per un bambino, staffetta nella notte per salvarlo, il piccolo è arrivato all'ospedale Salesi, scortato da due pattuglie della polizia. Il bambino ha appena 5 anni, la causa un virus influenzale molto violento. Rischia di morire dissanguato sul pianerottolo, l'anziano salvato da Marcello Liverani, coordinatore di Forza Italia. E poi l'altra pagina di Senigallia per chiudere il Corriere Adriatico. Due minorenni con la droga tentano di sfuggire ai controlli, fermati ai giardinetti, un ragazzo aggredito da un gruppo di macedoni in discoteca. Il resto del Carlino, la prima pagina, la TBC preoccupa non solo immigrati tra i colpiti da una malattia in costante aumento nella nostra provincia, ma anche italiani. Agostini dell'Asur dice tenere alta l'attenzione. Poi c'è il basket con la notizia che appunto la Consulting West parte a razzo. I due pivò fanno già sognare. Esordio più che positivo contro Brescia davanti ad un pubblico soddisfatto. E sotto si cerca adesso il DNA di chi ha incontrato Eva. L'indagine sulla balante morta Macerata Feltre va ben oltre il suicidio. Le altre pagine. Dicevamo di questo allarme TBC. I casi sono in aumento, ricoverato un 46enne che era già stato curato. Il dottor Agostini, lo vedete nella fotografia dell'Asur, parla di una patologia che non è mai scomparsa. Negli anni 50 la tubercolosi aveva quasi sempre un epilogo nefasto. Ora, per fortuna mai, il contagio avviene esclusivamente per le vie respiratorie. La regione a brutto muso con il Movimento 5 Stelle. I punti nascita resteranno dunque due. Pesaro e Fano con la doppia. Ostetricia. Badante trovata morta. Ora si cercano i DNA. La Procura ha incaricato un perito di scoprire le tracce di chi l'ha incontrata. Stiamo parlando del giallo che avvolge ancora il mistero sulla morte di questa donna in casa a Maceratta Feltria. La donna venne ricevuta, venne rinvenuta senza vita nella casa della sua assistita di 88 anni. E poi, cavallo scosso, contromano in superstrada. Il fantino è caduto dal calesse e l'animale senza guida si è infilato sulla corsia mare. Vedete il momento in cui il cavallo è stato messo da parte in un'area, in una piazzola di sosta della superstrada, mentre due, mentre gli agenti, li vedete in questa fotografia, gli agenti del commissariato di Ifano con, devo dire, davvero molto sangue freddo, sono riusciti anche in maniera molto intelligente a operare subito, evitando anche possibili incidenti. Immaginate voi un cavallo con un calesse contromano, di vedervelo, insomma, ecco, non è proprio semplice. Sono stati bravi un po' tutti quanti, gli automobilisti, a rendersi conto di quello che stesse succedendo in quel momento, ma soprattutto gli agenti che hanno prima bloccato la strada, poi sono riusciti a calmare il cavallo, che poi è stato riaffidato al suo proprietario. Poi c'è la notizia di Pergola, la fiera del tartufo bianco cresce, attira un grande pubblico, è andata più che bene questo esordio per la ventunesima edizione della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato che si è aperto ieri e che ha richiamato ieri a Pergola migliaia di persone. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, ci rivediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.